mercoledì 14 dicembre un caro saluto a tutti gli iscritti al canale continuate ad iscrivervi perché è molto importante oggi focus sul calciomercato retroscena su un giocatore che sta facendo parlare bene e tanto di sé soprattutto dopo la doppietta di ieri sera al mondiale e parliamo quindi di julian alvarez accostato al milan perché perché facciamo un salto indietro nel passato di un anno più o meno 12 mesi eravamo in questo periodo l'anno scorso quindi dicembre dell'anno scorso dove il milan era forte su alvarez il milan lo stava seguendo già da diversi mesi aveva seguito le gesta di julian alvarez con la maglia del river già da diversi mesi però poi stava provando a prenderlo stava provando a fare un tentativo per alvarez la concorrenza era già molto ampia in italia solo in italia c'erano tre quattro squadre compreso juve napoli fiorentina lo stesso milan all'estero non ne parliamo e ovviamente c'era anche il manchester city di pep guardiola il milan ovviamente un anno fa verso dicembre continuava a seguire alvarez lui continuava a segnare poi cos'è successo è successo che è arrivata la proposta economica del del manchester city verso gennaio ha pagato la clausola recessoria del contratto presente nel contratto di alvarez con il river di 20 milioni di euro e alla fine il giocatore ovviamente ha detto di sì al trasferimento alla corte di pep guardiola trasferendosi in premier league il city cosa ha fatto ha lasciato in prestito alvarez per sei mesi più o meno fino a luglio al river il giocatore è rimasto per altri sei mesi al river e poi ha cominciato la nuova stagione con la maglia del manchester city ieri doppietta doppietta di alvarez con la nazionale argentina argentina che si è qualificata alla finale dei mondiali grazie a questa doppietta di julian alvarez 22 anni e ovviamente alle giocate il rigore più l'assist meraviglioso di lionel messi argentina che va in in finale alvarez che conquista le copertine dei quotidiani e ovviamente qualcuno dice ma come il milano lo ha seguito per tanto tempo poi alla fine è andato al manchester city è vero ma quando arrivano questi club così importanti che economicamente possono non solo pagare la clausola da 20 milioni perché non è solamente la questione della clausola il mio anno magari 20 milioni poteva anche tirarli fuori per la clausola ma è poi l'ingaggio che devi andare ad offrire al giocatore e ci sono anche le commissioni quindi non è solamente la clausola il mio anno ci ha anche pensato fino a un certo momento di provare a prendere alvarez anticipando la concorrenza ma quando arriva il manchester city e magari per come dire vincere la gara l'asta con le altre squadre offre 3 4 5 volte in più al livello di ingaggio al giocatore e al suo procuratore o meglio ai suoi procuratori perché attorno a questi giocatori sudamericani argentini brasiliani e in generale in sud america ci sono tanti tanti personaggi che ruotano attorno al giocatore tanti manager e allora lì la situazione diventa complicata quindi non è solamente il prezzo della clausola ma è anche tutto quello che c'è attorno il manchester city ovviamente in questo momento ha uno strapotere economico impareggiabile e ineguagliabile il manchester city quando arriva sbaraglia la concorrenza offre tre quattro volte il prezzo del dell'ingaggio il cartellino la clausola e anche le commissioni e non può perdere la concorre non può perdere il giocatore in concorrenza con altre squadre purtroppo la situazione è questa la realtà è questa bisogna accettarla però è anche vero che il mian fino ad un certo punto ci ha anche creduto poi ha visto che è arrivata la formazione la squadra inglese di di manchester di manchester city e lì ovviamente ha alzato le mani e ha cambiato obiettivo può essere un rimpianto allora guardando quello che sta facendo alvarez al mondiale ma anche il manchester city sicuramente dal punto di vista tecnico lo è però bisogna anche essere realisti e capire che il milan in questo momento su determinati giocatori purtroppo non può andarci perché ci sono almeno una decina di squadre in europa che hanno più possibilità economiche rispetto al milan il milan può contrastare queste squadre con il blasone con il fascino di questa maglia della maglia rossonera ma il fascino il blasone arriva fino a un certo punto poi c'è anche la parte economica e lì il city purtroppo ai noi per il milan ma anche per il calcio italiano avrà sempre la meglio per questo diciamo che è importante crescere sotto il punto di vista del fatturato dei ricavi degli sponsor e anche dello stadio è un motivo in più perché poi non ci lamentiamo se il milan non riesce ad arrivare ad obiettivi però allo stesso momento non vogliamo fare lo stadio nuovo lo stadio nuovo è importante ti porta quei 70 80 milioni di euro netti in più all'anno che il milan può utilizzare sul mercato ieri il milan ha perso l'amichevole contro l'arsenal 2 a 1 sul campo 4 a 3 poi sui nei calci di rigore nella serie di vigori ho visto qualche critica di troppo per dei giocatori che secondo me non hanno giocato male ad esempio jacine adli tutto sommato non lo metterei tra i giocatori peggiori in campo anzi probabilmente l'unico insieme poi a tomori che ha segnato tonali che ha fatto questo bell'assist per il 2 a 1 appunto del difensore inglese del milan insieme a questi secondo me adli ha fatto ha fatto vedere qualcosa di positivo non solo perché è sempre stato sul concentrato in campo e sul pezzo ha sempre provato un certo qual modo a creare qualcosa però ecco è stato anche lui che ha pennellato un bellissimo cross al centro dell'area di rigore per la testa di orighi dove l'attaccante ex liverpool non ha avuto la freddezza giusta per mettere la palla alle spalle del portiere dell'arsenal qualcosa ha provato a fare di sicuro il livello dell'amichevole si è alzato rispetto al lumezzane adli credo che comunque abbia delle qualità deve secondo me velocizzarsi un po deve trovare un altro passo però vedo impegno lui ce la sta mettendo tutta quindi secondo me non credo che sia tra i peggiori in campo e non credo che magari meriti delle critiche nella gara di ieri nello specifico piuttosto parlerei di giocatori non più giovani giocatori che sono al milan da diverso tempo e che comunque continuano a balbettare con tutto il bene con tutto il bene possibile immaginabile ma rebic che prosegue in questa sua alternanza tra partite positive e partite negative questa discontinuità sicuramente non è un fattore buono positivo sia per rebic sia per il milan al milan servono certezze se un giocatore si assenta totalmente dal match anche se un amichevole non mi dà delle belle sensazioni poi ovvio che il rebic ti sfodera la partita super ti segna un gol ti fornisce un assist e lì riconquista ovviamente fiducia in se stesso e soprattutto fa conquistare fiducia anche mister pioli nei suoi confronti però in effetti nella partita di ieri si può dire che è stata una partita anonima da parte di ante rebic così come ha sbagliato uno o più interventi secondo me anche tatarusano e meno male che sta per tornare titolare maic megnana oggi tocca però a un altro importantissimo giocatore del milan olivier girou insieme a te vernandez tocca però al bomber francese del milan giocare in nazionale giocare la semifinale del mondiale contro il marocco francia marocco la francia la possibilità di accedere alla finale contro l'argentina sarebbe una finale comunque secondo me degna del nome di una finale dei mondiali argentina francia messi contro un bappe alvarez magari contro origa scusate contro giro insomma ci sono tanti bei duelle ci sono tante belle storie però insomma lo scoglio marocco va sempre superato perché secondo me il marocco è una formazione molto molto complicata da da superare tanto è vero che ha subito pochissimi se non sbaglio solo un gol in tutto il mondiale tocca quindi al bomber del milan tocca a olivier girou questa sera giocare la semifinale del mondiale e a quota quattro gol vedremo se migliorerà il suo bottino al mondiale poi dopo questa partita indipendentemente giocherà o la diciamo finalina per terzo quattro o quarto posto o la finale contro l'argentina poi tornerà a milanello verso diciamo dopo il 25 di dicembre in quel periodo lì intorno al 26 27 di dicembre per preparare il match fuori casa in trasferta contro la salernitana ma in generale per preparare tutta la seconda parte di stagione con il milan e poi si parlerà del rinnovo di olivier girou perché un discorso iniziale è stato già fatto va solamente messo nello subianco vanno solamente modificate un po di cifre ma la voglia da parte di girou così come del milan di proseguire insieme c'è e c'è da tempo c'è da molto tempo ci vediamo nel pomeriggio con altri contributi